Allora, grazie, grazie, e adesso è, eccolo qua, Carlo Verdone qui con noi, grazie Carlo. Grazie a voi per l'invito e grazie per questa bellissima accoglienza e complimenti per l'installazione perché avete fatto una cosa ad arte, molto ben curata, con tutte le pagine storiche e quindi mi ha fatto... Ho visto che ti è piaciuta tanto una citazione di Flaiano che c'è nella nostra mostra che invitiamo tutti a venire a visitare, diciamo fino al 19 possono venire, è un ingresso libero, ti è piaciuta quella citazione di Flaiano? Sì, adesso non so esattamente, mi pare, è il mio giornale preferito. Si leggono le foto e si guardano gli articoli e si leggono le fotografie. Soltanto Flaiano con la sua grande genialità poteva dire una cosa del genere. Senti, hai visto una rassegna ovviamente delle pagine storiche, però io ti chiedo, siccome il messaggero è il giornale di casa tua, fondamentalmente. Eh, lo è sempre stato perché quando io, fu mio padre che il portiere ce lo portava sempre su il giornale, lo leggero prima loro, ha letto i miei genitori presto e poi mio padre entrava in camera e diceva Cominciamo a leggere i giornali, a vedere che succede in Italia e nel mondo. Da oggi ti porterò sempre questo giornale. Ed era il messaggero. Quindi hai imparato a leggere? Io ho imparato a leggere il quotidiano della mattina, grazie a mio padre, ed era il messaggero. Io sono sempre rimasto fedele al messaggero perché il giornale della mia città è sempre stato esaustivo, ha sempre avuto ovviamente una parte importante per quel che riguarda Roma, quindi le pagine romane sono molto importanti. E poi aveva anche una buona pagina sportiva, e anche degli spettacoli, chiaramente del cinema, del teatro, ha avuto degli ottimi critici, degli ottimi storici del teatro, del cinema, della letteratura, ha sempre avuto delle buone firme. Quindi un giornale assolutamente affidabile. Ti chiedo una cosa. La prima volta che ti abbiamo citato, te la ricordi? La prima volta che sei uscito sul messaggero? Che facevi? Era il momento in cui lavoravi nel teatrino? La prima volta che sono uscito sul messaggero fu una critica che mi fece, adesso non mi ricordo chi, se Guglielmo Biraghi, su un mio spettacolo teatrale. in quelle cantine off, che è dell'alberico o alberichino. Alberichino. È alberichino al piano di sotto, alberico al piano di sopra. Non mi ricordo, no, mi pare che fu, non vorrei sbagliare, ma fu Tian, Tian che scriveva per voi. Assolutamente sì. Ecco, allora, Tian è stato il primo per il teatro e il primo per il cinema è stato Guglielmo Biraghi per un sacco bello. E là sono uscito per la prima volta sul giornale. Possiamo anche dire in qualche maniera, perché io la recensione non me la ricordo. Erano buone, erano buone. Erano buone e certamente... Incoraggianti. Allora, ti chiedo questo, perché intanto ricordiamolo che quando parliamo dell'alberichino erano quei personaggi che poi hanno portato Carlo alla notorietà nazionale ai tempi di No Stop, no? Della prima trasmissione televisiva. Questi giorni stiamo piangendo Nuti, che è stato un gigante come te, come Troisi. E' stato un mio collega, un mio compagno d'avventura in No Stop. Lui aveva il gruppo che si chiamava Gian Cattivi. Erano tre fiorentini, tre toscani. Erano molto simpatici, molto bravi. La scomparsa ieri di Francesco è stata veramente un grosso dolore. Però, francamente, non era neanche giusto che continuasse a vivere in quel modo. Sofferte. Ha sofferto troppo. E' stato un tempo incredibile perché fondamentalmente tu, Troisi, appunto Gian Cattivi e quindi ma soprattutto Nuti, voi a un certo punto con la vostra carriera cinematografica avete fatto la fortuna del cinema italiano. Cioè, voi spopolavate a botteghiera. Abbiamo fortunatamente chiuso le sale a luci rosse, che ormai avevano invaso tutta la città, e con i nostri film, piano piano, abbiamo comunicato al pubblico che c'era un qualcosa di nuovo nell'aria da vedere. I grandi colonnelli della risata forse avevano detto già tutto, erano anche anziani, e c'eravamo noi, eravamo chiamati i cosiddetti nuovi comici. Nuovi comici. Ecco, e quindi in maniera differente, molto diversa, perché eravamo tre attori, anche autori, perché scrivevamo le cose per noi stessi, e anche registi, completamente diversi. Massimo Troisi era in un modo, Nuti era in un altro, io ero più realista in un altro, ero più sulla realtà, non avevo quella fantasia, quel surreale, un po' cartoon, che certe volte aveva Nuti, molto intelligente. E non avevo neanche quella grandiosa recitazione corporea del volo di Massimo Troisi. Troisi era fantastico per le pause, le ripartenze, la gestualità, un'anima veramente, veramente napoletana. Ce l'hai un po' di nostalgia, ti viene un po' di quel tempo lì, anche di quei giorni a Torino, perché registravate a Torino non stop, era una bella banda di matti, c'erano i gatti vivono i miracoli, quindi Smilac. Io sono andato a Torino senza nessuna aspettativa, sono andato là, ho detto non so che succederà dalla mia vita, boh, avevo preparato sei sketch, avevo mandato alla RAI un curriculum per essere preso, e mentre stavo a Torino mi avevano preso come assistente alla regia, al regista programmatore, era una cosa del genere. Mamma tutta contenta, però mi disse, però aspetta un attimo, vediamo che combini là. Dico, ma poi che combino qua? Dico, deniamoci a questa cosa qua, come torno a Roma, vado là e mi presento. Certo. Invece poi, la vita ha scelto per me. Quindi i due cervi? Beh, i due cervi, la pistola al porto d'armi, il bambino di Dio, il prete con l'occhio bacucco. Che poi sono diventati i personaggi, ovviamente, i due primi personaggi, eccetera. Ma io ti voglio chiedere una cosa, perché sempre ogni tanto ci ripensa a questa cosa qua. Ma te, una botta da matto, un ragazzino come sei, di tornare in teatro, perché tu l'hai lasciato dall'alberico, dall'alberichino, eccetera, eccetera, poi c'è stata questa esposizione. Ma la botta da matto adesso di fare una cosa in teatro non ti è mai venuta? È un mio limite, lo riconosco. Non ho una mentalità, pur avendo fatto teatro per due stagioni intere al RISEO, e anche prima in teatrini off, di tutti i tali, eccetera. Non ho una mentalità teatrale. Cioè, dopo un po', dopo la seconda, terza sera, che devo rifare la stessa cosa, divento matto. E allora andavo avanti, infatti, ad improvvisazioni ogni giorno all'ERISEO, perché non sopportavo di fare la stessa identica cosa. E francamente, quando ho cominciato a fare il cinema, ho capito che il cinema forse era più adatto a me, con i suoi tempi più lenti, con i momenti di riflessione, col fatto di poter muovere la macchina da presa, mi piaceva molto la regia, dirigere gli altri. Infatti, ho diretto soprattutto tutte le attrici. E tutte le grandi, in realtà. Soprattutto che hanno lavorato con me, hanno avuto un riconoscimento molto importante. Ma me lo spieghi, secondo te perché sei così il regista delle donne? Perché è una cosa molto bella, lo sei stato quando... Perché lo volevo diventare. Quando ho capito che in un sacco bello e bianco-rosso è riuscito a farla recitare bene, una ragazza spagnola come Marisol, Veronica Mirier, e una russa, Magda, che poi era doppiata da Solvig d'Assunta, faceva la piemontese, ma era di Mosca, Irina St. Peter. Quando e Soralella, e le comparsa, e i generici, tutti erano ben diretti, ho capito che forse potevo diventare il regista che esaltava le sue attrici. Poi è arrivato Borotalco, e la Giorgia ha avuto subito tutti i premi di questo mondo, poi sono arrivati i compagni di scuola, poi è arrivato io e mia sorella, e la Sofia Ricci ha preso subito il Davide Donatello. Tutte le mie attrici hanno preso il Davide Donatello, quasi tutte. Ho un naso d'argento. Oh, peraltro Renzi e Brini sarà qua stasera, verrà la famiglia Proietti, perché la famiglia Proietti la ringraziamo, perché ci ha dato la possibilità di utilizzare, proprio per lanciare questa nostra iniziativa, una fotografia di Gigi, che faceva uno spot nel 1990, in cui parlava con il marzianetto della Luna, con la copia del giornale della Luna, appunto, e io ho detto, abbiamo chiesto a Carlotta, insomma, la famiglia ci piacerebbe di avere Gigi. Senti, il discorso delle donne, però, tu dicevi, questo aspetto del teatro, cioè del fatto che ripetere ogni giorno, e tu sei una persona invece sempre in evoluzione, perché adesso, per esempio, la serie, hai intrapreso un tipo di racconto, peraltro a me piace molto perché è una sitcom, quella che io chiamo le sitcom, cioè il formato dei 30 minuti, che era il formato, in realtà, sul quale tutti noi, di questa nostra generazione, ci siamo formati, perché è il formato di Happy Days, è il formato delle commedie. Sì, però io ho cercato di farlo il più cinematografico possibile. Sicuramente sì. No, non avrei mai fatto una cosa televisiva, prettamente televisiva. In uno studio, per intenderci. Le serie è stato un percorso obbligato, in qualche maniera, col Covid, con la gente che non riempie più le sale, con l'esplosione delle piattaforme in contemporanea, e la gente scopre un altro mezzo di usufruire dello spettacolo. A quel punto, se vai bene con un film, quanto puoi fare? Quanta gente, diciamo, non volgarmente, quanto puoi fare? Quanta gente entra? Eh, certo. Allora, a quel punto uno riflette, hai il contratto col produttore, e il produttore dice, forse è meglio fare per adesso questo. E tu, quando c'è stato il Covid, hai resistito tanto per tirar fuori il film? Io ho resistito tanto, poi non ce l'abbiamo fatta, e quindi è stato deciso, il produttore ha deciso di darlo in piattaforma. La tua serie però è una serie particolare, peraltro, vogliamo dire, state lavorando, insomma, la terza, la quarta, insomma. Adesso l'abbiamo strappato alle... Io ho finito la seconda. Ok. Poi uscirà... Che uscirà? Eh, adesso lo stabilirà Paramount, credo dopo l'estate, insomma, ovviamente. Ma io sto già lavorando, quindi va già... Eh, sono molto felice. Mo' arriva, ecco. Sono molto felice. Adesso stiamo già lavorando. Ieri ho cominciato la sceneggiatura della terza, è notta, finita la terza, sceneggeremo la guarda. Dopodiché concludo. Basta. Basta. Vita da Carlo? No, è giusto che si concluda Vita da Carlo. E il messaggero c'entra tanto dentro Vita da Carlo. Poi speriamo di tornare ancora con un film. Con un film. Ma c'è un'idea del film? C'è qualche cosa? Beh, qualche piccola idea c'è, però per adesso è congelata. C'è altre tre cose di Vita da Carlo, la tra le altre puntate. Dentro Vita da Carlo entriamo dentro Roma, perché appunto sei quasi diventato sindaco di Roma. No, perché? Però insomma, in realtà la gente ti voleva, poi dopo, come abbiamo visto in quella serie, così come ti vogliono, poi improvvisamente insomma ti dimenticano. E c'è il messaggero perché racconti proprio Roma, alla fine è un racconto generale, però insomma si vede l'occhio tuo su Roma, che è un occhio anche critico, anche... Beh, è l'occhio di una persona che l'ha sempre osservata nei dettagli, nell'apparato umano, nei quartieri quelli del centro, da Trastevere a Campo di Fiori. Certo, non è più quella Roma che frequentavo quando avevo vent'anni, questa è ovvio, è molto cambiata, però ci sono ancora dei frammenti che vivono, che sussistono e vanno intercettati. Chiaramente c'è un altro modo di parlare, c'è un altro modo di gesticolare, ci sono più culture anche all'interno della città, no? In qualche modo. Quindi è una Roma che mantiene a fatica alcune cose e però ha un apparato umano molto diverso. Provo a farti fare un esercizio, no? Oggi facciamo... Ecco, un sacco bello oggi. Ci avrebbe magari, che ne so, Bangla che parla romano? No, non avrebbe senso. Non potresti fare più il viaggio in Polonia per portare le calze di seda e venne a biro per rimorchiare Polanche. Perché la Polonia economicamente sta meglio di noi a momenti. E quindi lasciamo per... E al contrario. Ecco, capito? Quindi il bullo che parte così dovrebbe essere... Non andrebbe in Polonia, andrebbe forse da qualche... Non so manco da che parte. Da che parte. No, perché non c'è... Beh, in realtà è che poi quell'elemento esotico, come era la Spagnola, come era quell'idea della Polonia, eccetera, in realtà oggi ce l'abbiamo veramente in mezzo a noi. È proprio la città che si è trasformata da questo punto di vista, no? È una cosa invece che è una serie che mi piace molto è che sono coinvolti nella serie attori giovani, molto bravi, e c'è un'osservazione tua dei giovani, secondo me gli dai anche tanta libertà di esprimersi e di essere molto contemporanea a questa serie, proprio grazie a questo. No, questa era la scommessa da vincere. Io ormai sono, chiamiamo così, sono veterano. Io devo portare avanti attori giovani. Io mi devo circondare di giovani. Perché se non mi circondo di giovani il racconto non è interessante. Il pubblico sa già abbastanza di me. Quindi io devo fare la mia parte, però devo cercare di mandare avanti il più possibile nuove leve, nuovi attori, nuove attrici, lanciarli possibilmente, esaltarli il più possibile. Abbiamo bisogno di bravi attori, nuovi, e ne abbiamo. Non solo hanno lavorato con me, ma stanno lavorando anche con tanti altri colleghi. bisogna fare così. Io do loro la mia esperienza e loro mi danno tanta energia e tanta carica. Ti piacciono? Molto, molto. Sono molto bravi. Hanno fatto veramente poi tutti un salto di qualità, quelli che già c'erano dalla prima stagione alla seconda. Ti faccio la sottolineatura per Bannò, perché a me piace molto. Bannò è Antonio Bannò, un ottimo attore. Caterina De Angelis, un'ottima attrice. Maria Pagliato, la conosciamo. Grandissima attrice di teatro. dalla parte di Anna Maria, la mia governante. E poi avremo ancora... Delle altre... Sì, avrete alcuna delle sorprese, poi al momento opportuno ve ne dico. Dicevamo, il messaggero che racconta, raccontato, insomma, racconta tutti i giorni, molto questa nostra città. Ma in questi giorni in cui noi raccontiamo chi siamo stati, e l'idea però è quella di immaginarci anche nel domani, perché poi è una bellissima città, non deve diventare un museo a cielo aperto. In realtà, quello che noi abbiamo visto riguardando questa storia è che quando Roma ha avuto dei momenti di splendore, è stata l'Italia essere splendida fondamentalmente. Sono stati i momenti migliori. Pensiamo al cinema, ai tempi da Dolce Vita, al momento in cui c'era il boom dell'Italia da un certo punto di vista. Credo che sia questo un po' il tentativo nostro, anche da romani di narrazione, che dobbiamo fare di noi stessi. Cercare in qualche maniera essere anche un po' più orgogliosi, forse. Più orgogliosi è cercare di recuperare, in qualche modo, dei luoghi, delle strade, che sono storiche per Roma. Via Nazionale, sta qua, vicino. Se tu la percorri, è più il numero dei negozi chiusi di quelli aperti, che vendono le magliette a euro. Ecco, questo francamente è un dovere. Fra l'altro, il piccolo Eliseo e il grande Eliseo chiusi con gente che dorme per terra. Queste sono immagini che non vorrei più vedere. Vorrei vedere, risprendere ancora un pochino. Via Gavur. Non la possiamo più vedere così. Sono tante le strade che hanno perso il loro fascino. in primis Via Veneto. Ecco, e come si fa? Ci vuole un po', bisogna un po' ripensarle. C'è uno sforzo di narrazione? Ci vuole uno sforzo anche politico, anche da parte del comune, dell'assessore della cultura. Ci vogliono delle idee, ma soprattutto bisognerebbe che riaprissero dei negozi importanti, dei bar importanti, il famoso Caffè de Paris. Io una volta ho fatto sui social un racconto di ricordi del Caffè di Paris e il mio zio, che era un playboy, che frequentava molto la Dolce Vita. Chiaramente non torneremo mai più alla Dolce Vita. Dolce Vita è qualcosa che ormai è andata. Però è una strada che era importante quella. Diceva un signore che stava con me, un vecchio parrucchiere. Ci si vestiva bene per andare via Veneto. Si doveva mettere la gravata, una bella camicia e passeggiare, guardare ed essere guardati. Ma però ci si doveva vestire bene, le scarpe dovevano essere pulite. Pensa te. Quindi era un salotto di Roma. Hai capito? Quando noi abbiamo visto prima la frase di Ennio Flacco. No, vorrei più vita in queste strade che ho citato. E non sono le uniche. E poi una maggiore attenzione anche alle periferie. Perché ci sono delle periferie. Non è che dobbiamo parlare di Roma solo del centro. Perché ci sono delle periferie che vanno veramente aiutate. Ci sono persone che vivono in condizioni veramente terribili. Io girando la serie, anche altri film, me ne sono accorto, non è giusto. Ci vuole più cura, più cura, più cura. Se tu dai più cura, insegni anche agli altri a vivere meglio. Freni anche un po' di delinquenza in qualche maniera, che nasce dalla solitudine, dalla disperazione. Carlo, allora, noi ovviamente ti ringraziamo per essere stato qui con noi. voi, ma avete fatto un benissimo regalo, ma avete anche regalato la pagina del 17 novembre del messaggero, 1950. Sta là, sta là. una domanda, ecco, forse c'è una domanda che arriva dal pubblico. come ti pensi di Netflix? Guarda, io non ne penso male, non ne penso male. È un modo per portare nuove forme di spettacolo al pubblico, pubblico e quindi va bene. Il mondo va in evoluzione, non ne cose. Però quello che è importante è che non deve morire il cinema. Il cinema non deve morire. Ora, detta così, e ti dicono, eh, ma ci stanno i bei film, però quanto costa la sala? Io con quei soldi della sala mi faccio un mese di una piattaforma. Io credo francamente che ci vogliano dei film fatti veramente bene. se un film è fatto veramente bene, la gente ricomincia ad entrare. Non ci vuole solo il film d'autore, siamo pieni di film d'autore. Sono belli, ne ho visti, bell'occhio, è un gran bel film, è un grandissimo bel film. Però è per un pubblico un po' d'accordo, un po' selezionato, un po' preparato. Non è un film facilissimo, è un signor film. Ci serve una grande commedia, Carlo. Ma le grandi commedie vanno a scrivere. Allora Paolo, scusami, vieni, vieni, porta, prego, prego. Ecco, questa è... Le grandi commedie pure si devono scrivere bene. Questa è la prima pagina del giorno in cui... Il giorno in cui Carletto Verdone, Carlo Gregorio Verdone, Carlo Gregorio Verdone. Il mio nome è Carlo Gregorio, perché mia nonna ebbe paura del 17 novembre del venerdì e disse no, ma chiamamolo Gregorio, che a Roma si via che c'è in gran... E io mi allovo Carlo Gregorio Verdone. Questo è che io nascevo quando il messaggero usciva con questa prima pagina. Grazie. Molto diverso. Grazie del regalo. Molto, molto, molto. Ecco, subito una bomba al Pia. Una bomba, e vabbè, insomma, qualcosa ci... Al Partito Repubblicano di... Giustamente, abbiamo notato che chiaramente quando puoi fare la rassegna delle prime pagine molto spesso i giornali raccontano magari le disgrazie. Infatti ho scelto per leggerezza, ho scelto Italia Cuore Mondiale perché ho voluto evitare i dolori. Eh sì, quello sicuramente sì. Carlo, allora, grazie, grazie. Grazie a voi, complimenti a voi per quello che avete fatto, complimenti a voi per quello che farete col vostro giornale, occupatevi sempre della città, questo è importante, anche delle sue magagne perché sottolineare le magagne significa anche suggerire al politico, alla politica, quello che bisogna fare in fretta. Quello è importante, il vostro è un lavoro importantissimo. Allora, grazie, grazie a Carlo Verdone qui al messaggero in occasione dei 145 anni del nostro giorno.